buongiorno a tutte ragazze come state allora scusate un po' per la luce ma mi sono appena svegliata e niente non puo' videovlog anche stavolta perché ho voglia di fare un videovlog comunque buongiorno come state? spero bene e niente io da poco mi alzo faccio colazione anche se l'ho già fatta alle 5 qualcosa si lo so che è esagerata però stavo volendo di molti stomaco e mi ha fatto un caffè non tutto per guardare i vostri video e alcuni di vostri video e altri iscritti tra poco stamattina guarderò altri video mi sto alzando ai alla schiena mi fa male da morire la schiena mamma che sono qui ancora vedrete che te lo fa fare i video qui adesso adesso sono le 8 17 all'altra mezza devo mettere il polirio ovvero le voce per gli occhi e niente che sono a posto così già niente per il momento ho preso solo caffè e basta e del resto niente devo ancora prendere cioè mangiare dei biscottini con il latte e poi basta io piuttosto ho dormito bene stamattina anzi ieri notte ho dormito bene onesta notte e poi basta ho sognato anche molto bene anche se è difficile ricordarmelo vabbè niente non è un blog su niente ragazzi viene a dire questa parola che non si deve dire però è più forte di me non ho contato le volte che dirò niente ok e l'altra ok ragazzi lo rialzo perché alle 8 e mezza se no mi dimentico di mettermi le gocce oddio che capelli sparati in aria già allora frattempo qua mi sistemo un po' per andare in cucina perché sinceramente non ho voglia di andare a tutta disordinata in cucina anche se questo è il pigiama per per dormire tanto poi me lo levo già no si qui c'è il wifi lo devo staccare vabbè perché aspettate ragazzi un attimo qui c'è il wifi lo stacco ok a posto si c'è l'attaccato wifi nel come si dice in un altro telefono ok e niente dunque ora abbiamo la faccina ho riposato bene o no ho riposato bene via io se neanche lo mette ci vedete non lo so proprio oddio che roba allora la roba non lo so proprio adesso se neanche lo so cosa fare danni ok comunque la faccia non c'è quasi più prodotto comunque potete prendere A presto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 provo solo dentro casa sta piovendo o non sta piovendo? mi sa proprio di si adesso controllo prima metto le gocce ragazzi che è più importante ricordare se piove allora vi poggio qua perchè sennò vi faccio girare la testa mentre cucine torno subito dunque sono tornata nel senso che si attraverso le gocce ora apro perchè è meglio che apro e vi porto e poi caso non vi poggio per parte e poi c'è rotta da qualche parte allora inizio a aprire qui perchè altrimenti c'è troppa poca luce per i viti vabbè i viti sono quelli che sono allora dov'è? la tre chiave per aprire la seconda porta ecco qua vabbè vabbè si fatta il rumore ma era inevitabile se avete sentito il rumore ok ok allora porte aperte e ristra aperte allora di qua devo prendere la caffettiera perchè non la devo trovare sporca ok A presto. Benissimo, allora ho forito la fettiera, adesso faccio colazione con voi, va bene? Non so cosa vedrete, però faccio colazione, prendo i biscottini, questi della nulla bianca, altro nada, ho solo questi. Latte, rigorosamente, arborea, perché arborea è buonissimo, a me non mi fa impazzire, ma questo è, poi non è nulla di mai, arborea lo bevevo da quando ero piccola, quindi non vedo perché non potrei bere adesso. Non è una, non vuole essere occhio, non vuole essere una polemica, era per dire che è un vero, altra arborea, boh, un po' a bruciare di stomaco, non lo so, io l'avevo lo stesso, poi, se ci metto dello zucchero, forse è ancora meglio. Adesso metto dello zucchero, mangio i biscotti e pace, ok? Niente, allora, zucchero, non vedrete niente, ma vi assicuro che sto mettendo dello zucchero. Allora, dunque, aspettate un attimo, già. Allora, la mia parte dovrò pur sistemarvi, perché sennò così non vedete niente di niente. Ok, allora, qua c'era la mini melanzana, perché c'era la melanzana, non ci credete? Mini melanzana, eccola qua, piccola, 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 piccola. Sarà sicuramente buona, ma per adesso non c'ho voglia, devo far prima tutto a colazione. Vabbè, sembra giusto, cosa è scontata, che ti compro il mio. Allora, che sto a fare se devo mettere il tonno del latte, ma che l'ho capito io. Questo quando scade, 4, ah, vabbè. Non ho commentato, mi ho bevuto il latte del 4, cioè, non è, niente. Allora, dunque, cosa volevo dirvi di innovativo, di bello, non innovativo, di bello, che sono scritte a un sacco di gruppi, facebook, che però partecipo poco e nulla, però, alla fine, ogni tanto, qualche, riuscirò a parlare oggi, a sillabare, non lo so, mo' ce provo. Vi stavo dicendo che sono scritte a mille, quasi, non so quanti, quanti gruppi facebook vi siano su facebook, ma vi partecipo una volta ogni tanto, cioè, praticamente, in teoria, io parteciperei, aspettate, a gruppi make-up, progetto smaltimento make-up, che è poi una volta ogni tanto, e poi quei gruppi lì di Međugori, quei gruppi lì della Madonna di Fatima e altre cose pare. Poi, ce n'è altri che partecipo ai giveaway, i giveaway sono bellissimi, i giveaway ti aiutano a prendere della nuova roba, cioè, sarebbero premi in palio, per i trucchi, come per Instagram, nessuna cosa, se non la puoi tenere tu, la dai a altre persone, dei membri della tua famiglia, come credo che sia giusto, eh sì, ragazzi, non lo potete fare voi, lo date a chi li può usare, che ne ha pochi, ok? Questa è quanta. Così, se io dovresti vincere, non so che sta chiamando, ma aspetta un attimo. Allora, non so, non so, non so, non so, non so. Allora, non so, non so. Allora, non so, non so, non so, non so. Allora, ragazzi, scusate l'attesa, ma c'è la mia cugina al telefono, quindi mi sembrava il più educativo dare a detta mia cugina, perché lei non è qui a Palau, ma è da un'altra parte per studio, per questione di studio, quindi, niente così. Allora, vi stavo dicendo che sono partecipanti, partecipe di tanti gruppi Facebook e non solo, anche su Instagram mi taggano dappertutto, però non sempre riesco a partecipare, perché sto cercando di essere più attiva più quanto possibile su YouTube, per commentare appertutto i video, però, ahimè, non so nulla a voto, quindi, dal più delle volte, non lo so cosa succede, ma YouTube mi toglie gli iscritti, vabbè, pazienza, non importa, l'importante è stare bene bene in salute, altro che gli iscritti qua e gli iscritti di là, o perlomeno, io la penso così, quanto riguarda gli iscritti, è più importante, secondo me, la salute, come dite anche voi, ma perché questo coso se ne va con i fatti suoi, scusate se sentite, se sentivate la, i colpi nel telefono, ma c'era questo, aspettate, questo qua che dava colpi perché l'ho fatto rotolare più di là, niente, vabbè, dettaglio un po', così, cretini, però per dirvi a voi, perché non sentivate quasi più la mia voce, spero che si sia sentita, anche se avete sentito i colpi di qua e di là, che sto registrando, non con la foto che aveva la nostra botta, ma come potete ben capire, col telefono. E niente, io ho, scusate se ho cominciato, per tutto il tempo del video, a dire questa parolina strana, ma così è, e quindi non lo so, ragazze, per tutto il tempo è importante, più importante è la salute, fidatevi, poi per il tempo frivolo tra, come si chiama, non tempo, l'importante è il contenuto, e facciamo, e quanto riusciamo a coinvolgere le persone, cioè ad intrattenerle, sui nostri canali YouTube, altrimenti non ci tripa per gatti se non riusciamo a coinvolgere le persone, a intrattenerle. E quindi ragazze, io vi consiglio, per quello che riguarda me, di non pensare troppo a queste cose che vi ho appena detto. Comunque, stamattina non so cos'altro farò, ma ho intenzione di tagliare lungo il video, perché sinceramente non posso stare a fare un video di, non so, 30-40 minuti, perché poi la gente si stufa, però io stavolta sono incisa e lo farò più in lungo. Sì, qualcosa la taglio, ma qualcosa la lascio, perché altrimenti chi capisce cosa stai dicendo? Già. Sei un po' di spesso. Sei vestita, no? Sì, non so. Ok. Sì. Chiudi, va? Non so se qualcuno di voi beve latte arborea, ragazzi miei, o se beve granarolo. Comunque, sia granarolo, granarolo, scusate, non so più parlare tra poco. Sia granarolo che arborea sono tutti e due dei magnifici e stra buonissimi latte. no, vabbè, per l'amor di Dio, all'inizio arborea non arborea e granarolo non mi piaceva. Però, ho detto, perché lo devo svalutare? È un buon latte, come per arborea. È un buon latte, come per arborea. Non ha nulla di male. Però, forse lo disdagnavo un po', sia granarolo che arborea. è un buon latte, ma non ci trovo nulla di... di... così... boh. Come posso meglio spiegarvi? Che non mi possa piacere? Non lo disdagna per niente adesso. All'inizio lo detestavo. Non mi piaceva mai il sapore, adesso però sì. latte, cosa volete che sia? È il latte. Ho saputo che piace anche a Elenia. Elenia Pauciullo, del canale. Non mi ricordo il nome, perché io con i nomi del canale a volte mi perdo pure. Perché Elenia Pauciullo si chiama... Il canale di aspettati, forse mi sta venendo a mente. A mente, sì, ciao. Country Girl, sì, mi pare di sì. Country Girl, se non erro. Poi vado a sbicciare su YouTube perché non mi ricordo più. E poi... Granarolo mi pare che sia Veneto il latte. Sì? Correggimi se sbaglio, Country Girl e Elenia Pauciullo. Se vedi sto video, fammi sapere se Granarolo è Veneto. Ma presuppongo di sì. Perché l'ho assaggiato facendo delle gite... Cioè, non gite. Cioè, in un viaggio che stavo facendo per Firenze. Andando a trovare degli amici. E quindi ho detto, ma provi a assaggiare Granarolo a vedere se mi piace. Non mi piaceva. Poi adesso ogni tanto lo assaggiavo. Adesso, nei tempi che furono quando ero adolescente, l'ho riassaggiato e non l'ho più disegnato. Ma adesso Granarolo, chissà dove lo vendono. Ahimè, non lo posso più bere. Perché non lo trovo. E proprio perché è il significato che non lo posso più assaggiare. E vabbè. Se per questo mi accontento anche di Arborea. Arborea è buona, è un buon latte. E si digerisce. Mia nonna, perlomeno, lo digerisce bene. Io preferirei quello col tappo blu, ma mi accontento di questo. Perché, come si suol dire in casa dei nonni e dei genitori, bravissime. Si mangia e si beve quello che passa al convento, ovviamente. E' così ragazzi. Siccome io vivo con mia nonna, mangio quello che passa al convento. Non sempre. Qualche volta ti chiedo, o no? Mi prendi qualche altra cosa di più buona? Cioè, cosa vorresti? Cosa ti direresti? Che ne so, patatine, hamburger, o che ne so. Adesso non sto più mangiando l'agnello. Per esempio, faccio un piccolo riassunto. Non mangio più agnello né porcetto. Perché non mi vanno più buono. Non lo so, mi sono stufata. Che voglio dire. Però sto mangiando dall'insalatina. Di tanto in tanto. Ma pomodori niente. Perché i pomodori, purtroppo, ragazzi, non li posso più di tanto mangiare. A meno che non ci do un taglio. E li mangio così raramente. Altrimenti no. Faccio una piccola... come si può dire? Ehm... Non viro a mente adesso. Ce l'ho solo a punta della lingua ma non mi riesce. Eccezione. Faccio una piccola eccezione. Ehm... Mangio i pomodorini. Però... Quei ciliegini. Totti. Per esempio. Però... Per quanto riguarda l'insalata. Mangio quella verde. Quella cipolla. L'insalata. E a volte aggiungo anche un po' di sedano. Che non è male. Molto buona, sì. Allora. Cipolla. Ehm... Sedano. Che altro? A parte che i pomodori a volte non li aggiungo per niente. Ehm... E anche della mozzarella. La mozzarella è buona. A me non fa... Non mi fa impazzire. Devo dire. Devo essere sincera. Però la mozzarella la aggiungo... Quando più mi va. Cioè... Quando sono... Quando ho più voglia di mangiarmela con un misto di insalata. A volte ci metto della rucola. Della presaula. E del formaggio. Vabbè. La presaula la prendo. Dipende dove vada via. Alla costa un salasso. Ma se la prendo all'Eurospin. Secondo me è buona. Dipende. Lì bisogna sempre leggere la confezione. Dove viene fatta. E soprattutto da dove arriva. Punto. No. 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 Parla con calma. Continua a parlare. No. No. Anche a te. Se vedi questo video. So che riguardi i miei video. Bene ragazzi. Ehm. Comunque. Buona continuazione a tutte. Io tra un po' taglio il video. E lo monto. E ci vediamo. A presto. Comunque. Ehm. Buon tutto. E a presto. Ma Luca. Aspetta il like peso. Sì sì. Ehm. Like. Commentino. Ehm. Per chi volesse. Per chi interessasse. Sto canale. Frivolo. Metta. Like. E ovviamente. Attivate la campanellina. Per ricevere i prossimi video. Aggiornamento. Ciao. A presto. Un bacio. Buona continuazione di nuovo.